dopo un primo quarto un po diesel diciamo siamo riusciti con un grandissimo inizio di terzo quarto a portare via i due punti da Forlì campo inviolato da 13 partite consecutive contro una squadra che fa della solidità difensiva e della durezza nella metà campo difensiva la loro caratteristica più importante ancora una volta un approccio al primo quarto non 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 eccelso però poi sono venuti fuori gli attributi e il grande desiderio di di non perdere e questo questo ha fatto ha fatto decisamente la differenza domani alle 18 arriverà la pala carnera geni napoli l'unica formazione che ha battuto due volte in questa stagione la più tra coppa italia e girone bianco anche in questo caso c'è la possibilità di un aggancio quota 10 al primo posto dove proprio ci sono napoli e torino il gruppo bianco sicuramente e ha dimostrato di essere un gruppo composto da squadre di alto livello un gruppo dove all'interno della singola partita qualsiasi piccolo errore lo si paga in maniera doppia come del resto poi dovremo essere disposti ad accettare questa questo aspetto anche durante durante i playoff e c'è questa possibilità ne siamo estremamente consapevoli arriva al carnera una squadra solida una squadra molto atletica che fa del contropiede primario e della corsa diciamo da palla recuperata una delle loro caratteristiche principali da parte nostra c'è desiderio di mettere in campo tutto quello che abbiamo per provare a raggiungere un risultato che sarebbe veramente veramente un grande traguardo per concludere al meglio questa chiamiamola regular season domenica forli era indisponibile marco giuri a causa di una distorsione alla caviglia sinistra maggiori minuti dunque per andrea amato che è stato protagonista in positivo all'unieuro arena dalla panchina che sensazioni avete avuto estremamente positive perché perché è stato è stato performante decisivo in in entrambe le metà campo e un'azione difensiva subito appena entrato contro contro bruttini una palla recuperata e poi in attacco diciamo un senso non servo certo io per descrivere il talento e le caratteristiche di andrea però sicuramente sicuramente quando andrea è performante su entrambe le metà campo sia quella difensiva e quella offensiva ne risente ne risente tutta la squadra perché perché c'è più c'è più solidità in difesa e c'è più qualità in attacco